buonasera a tutti ragazzi come al solito quando trovo qualcosa che mi emoziona ve lo mostro questo è il frutto del cacao non so voi però era tutta la vita che aspettavo questo momento è la prima volta che riesco a comprare questa cosa voi siete mai riusciti a comprarla si chiama teobroma cacao questo frutto si chiama in particolare cabosse non so se la pronuncia è giusta e all'interno c'è teobromina che serve a creare euforia e caffeina infatti non tutti sanno che il cacao in grandi quantità può essere come una droga può creare dipendenza ed è anche un forte diuretico quindi anche come tutto le cose naturali fanno bene però bisogna prenderle con moderazione e questo vale per qualsiasi cosa allora io sono emozionatissima perché non mi aspettavo assolutamente che fosse così io ho preso un seme di cacao no e all'interno di un cabosse ci possono essere fino a 40 semi minimo 20 semi eccolo qua a questo rivestimento umidino che abbastanza acido no che chiaramente bisogna essiccarlo al sole o comunque col tempo diventa secco no e poi chiaramente viene macinato e si ottiene il burro di cacao e il cacao eccetera eccetera allora io vi dico che ho assaggiato questo seme di cacao e sa esattamente di cacao cioè non si distanzia molto dal gusto della cioccolata quindi è già buono di suo appunto dicono che fa molto bene mangiarlo così è autentico vi dico che non verrà buttato via è veramente buono è emozionante no perché quando cioè quanta cioccolata abbiamo mangiato nella nostra vita però non tutti collegavano la barretta di cioccolata all'immagine di questa cosa no e niente quindi che dire da per fare un chilo di cacao servono dieci di questi frutti io l'ho pagato tantissimo perché chiaramente mi hanno vabbè sono quelle cose esotiche costano sempre tantissimo ho speso sei euro per questo frutto in quale repubblica cieca e niente mi sembra di avervi detto tutto cosa ne pensate è molto buono o l'ho fatto assaggiare anche a nicoloni quello ti è piaciuto tantissimo buono sei serio non mi sembravi tanto dormito ecco quindi ecco intuitivamente non lo mangerei tutto in una volta è una cosa dura è anche dura è bello che il frutto rimane così fresco a lungo e poi dura in frigo quindi lo potete anche consumare con calma quindi ciao ciao dall'origine della cioccolata dal teobroma di cacao dal cabosse ciao ciao cosa ne pensate l'avevate già provato ciao ciao da francesca al prossimo video ciao